mi insegno a fare un semi permanente dopo aver preparato l'unghia naturale e aver fatto la manicure per fare il semi permanente andrò a mettere il primer 2 che è un primer non acido vado a metterlo in modo leggero su tutta la lamina ungueale non deve essere né troppo né troppo poco dopodiché senza aspettare che evapora perché il primer non acido non ha bisogno di evaporare vado a mettere una base trasparente comincio dal centro verso la punta e mi avvicino alla cuticola dopodiché vado in lampada 60 secondi dopo aver polimerizzato la base vado a mettere la prima passata di colore mi avvicino tanto alla cuticola e vado in lampada 60 secondi seconda passata di colore che vado ad asciugare in lampada ancora 60 secondi chiudo il lavoro con un top con dispersione in modo che sul semi permanente evito che il top si spacchi vado in lampada 60 secondi e sgrasso dough in lampada 60 secondi e sgrasso